L'area del cuore, lo scambio con un svaldo, il taglio per Pisarro, ancora il PEC cerca di entrare nel lato... Vuole un'elettina! ...corsi parco da secco, se ne piavate, attenzione, ha recuperato ancora il... ...della pietra, l'area del cuore, l'area del cuore, l'area del cuore... ...della Piedra! GOOOOOOAAAAAAAAL GRANDE Grazie a tutti